Torna al Munda dopo un sapiente restauro La Madonna del Rosario, opera di Saturnino Gatti che ha firmato moltissime straordinarie opere nel territorio. Un dipinto su tavola di circa 5 metri che ora è possibile ammirare nelle stanze del museo alle 99 cannelle. Il restauro della preziosa opera è stato voluto e finanziato dal Museo Nazionale d'Abruzzo, diretto dalle dottoresse Federica Zalabria e Giulia Vendittozzi. Prima del restauro vero e proprio è stata fatta una campagna di indagini diagnostiche da Stefano Ridolfi e Ilaria Carocci per conoscere meglio la tecnica usata dal Gatti. Un restauro conservativo complesso condotto da Roberto Sacuman per il supporto da Elena Mercanti e Paola Mancini per la parte pittorica. La complessità è risieduta nel fatto che sono stati individuati nell'opera almeno sei interventi di restauro coniugando quindi lo stato conservativo alle esigenze estetiche per far emergere in tutta la sua bellezionicità la mano e la tavolozza del Gatti. La sua pittura si riconosce perché è preceduta dal disegno a pennello che descrive particolari, spesso rafforzato da un segno ed incisione che si va a sovrapporre al disegno. I colori sono sempre intensi e vivaci come le dorature applicate. L'intervento è stato graduale proprio per far emergere tutti questi particolari. Il Museo Nazionale di Abruzzo organizzerà a breve una giornata di studi per presentare il restauro e le indagini fatte. Intanto però la Madonna si mostra al pubblico in tutta la sua bellezza nella sede di Borgo Rivera. Dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30 si tratta di opere importantissime di cui pian piano la città si riappropria incrementando sempre più l'importanza delle proprie collezioni. Grazie a tutti.